Tutti sanno che esistono i classici Disney, scommetto che non li avete visti tutti, ditemi quali non li avete visti perché qua vi sto per fare un elenco di tutti quelli che esistono spiegandovi la loro trama senza fare spoiler. Siamo arrivati all'ultimo capitolo di questa rubrica. Questa nuova epoca si chiama Revival perché riporta in vita tutto ciò che la Disney aveva di buono negli anni 90, nel rinascimento Disney, ma basa gran parte del suo successo sulla nostalgia e sul mantenere e non mantenere certi stereotipi, proprio come nel rinascimento, solo che non si sta riprendendo dal medioevo stavolta, ma da un'epoca sperimentale in cui non si trovava la formula giusta. Si sarebbe trovata solamente infatti col 49esimo classico Disney, la principessa e il ranocchio. Ci troviamo di nuovo all'inizio del novecento. Siamo in America, New Orleans. Tiana ha un solo ed unico sogno. Così fa due lavori, cerca di guadagnare il più possibile e con le mance cerca di ottenere quei soldi che le serviranno per riuscire in futuro a comprare un vecchio edificio abbandonato in cui dovrebbe riuscire a realizzare finalmente il suo sogno. Le cose però prendono un verso completamente sbagliato quando il locale le viene revocato perché è una donnetta di basso rango. E le cose vanno a finire ancora peggio quando a una ricca festa, Tiana, vestita da principessa, incontra una rana parlante. Il ranocchio cerca di spiegare a Tiana che se lei lo bacerà, lui diventerà un principe. Il ranocchio è effettivamente un principe punito da uno stregone voodoo, il dottor Fasilier. E quando Tiana lo bacia, pure lei si trasforma in una rana. È così che Tiana e il principe Navin si ritrovano tutti e due trasformati in rane senza sapere come tornare umani se non cercando una principessa da baciare. Rapunzel Questa storia inizia quando una goccia di sole cade dal cielo e nel punto in cui cade la goccia di sole si crea un fiore magico. Madre Gothel, un'anziana signora, riesce a trovare questo fiore magico e scopre come usarla a sua magia. Cantando una canzone è in grado di ridare la giovinezza e di curare da qualsiasi male. Grazie a questo fiore riesce a sopravvivere per centinaia di anni, finché il fiore non viene strappato, per curare la regina di quel regno che è molto malata, tanto da mettere a rischio la bambina che sta per partorire. Grazie al fiore la regina riesce a sopravvivere e a partorire la piccola bambina, Rapunzel. I capelli della bambina però mantengono lo stesso identico potere che aveva il fiore, ma se tagliati perdono ogni potere. Così Madre Gothel è costretta a rapirla e a nasconderla in una torre in mezzo alla foresta. Qui Rapunzel cresce senza sapere minimamente come sia fatto il mondo esterno, e avrà l'opportunità di uscire solamente quando un baldo giovane riuscirà a salvarla. Winnie the Pooh, nuove avventure nel bosco dei cento acri. È il sequel del vecchio classico Disney Winnie the Pooh, ed è l'ultimissimo classico Disney fatto in tecnica tradizionale, cioè con i disegni a mano. Avevamo lasciato Christopher Robin che si preparava a dire addio Winnie the Pooh perché stava crescendo. Ma Christopher Robin non è ancora cresciuto del tutto, sta iniziando ad andare a scuola, e quando parte per la scuola saluta i suoi piccoli amici pupazzi dicendo che tornerà presto. Ma i pupazzi frentendono la frase di Christopher Robin e pensano che sia stato rapito dal mostro appresto. Ed è così che inizierà un'avventura per cercare di salvare Christopher Robin dal terribile appresto. Ralf spacca tutto. Ci troviamo nel 2012 in un'ormai vecchissima sala giochi. In questa sala giochi si trova uno dei giochi più apprezzati. Felix aggiusta tutto Felix. Lo schema di questo gioco è molto semplice. Ralf spacca tutto, spacca tutto. E Felix, il giocatore, deve riparare tutto ciò che Ralf spacca tutto, spacca. Ralf, essendo quello con il ruolo da cattivo nel gioco, finisce per essere trattato come se fosse cattivo anche nella vita reale, cosa che in un certo senso è. E quindi Ralf decide di lasciare il suo gioco per cercare di dimostrare che se solo ci fosse un gioco più adatto alle sue abilità potrebbe tranquillamente vincere e dimostrare di essere buono. Quando Ralf riesce finalmente a vincere una medaglia che attesta la sua bontà, però le cose vanno a finire male. Ma la medaglia di Ralf verrà rubata. E Ralf, appunto, dovrà recuperarla. Recuperarla in un gioco dove avrà a che fare con un glitch. Frozen, il regno di ghiaccio. Ci troviamo tra il 700 e l'800, nel regno di Arendelle, in Norvegia. Il re e la regina hanno una figlia, Elsa, la primogenita, che però ha dei poteri magici. Riesce a creare il ghiaccio. Nessuno sa da dove arrivino questi poteri e non si pensa nemmeno che possono essere pericolosi. Questo, almeno finché Elsa, non ferirà per sbaglio la sorella Anna. A questo punto, per proteggerle, le due sorelle vengono tenute separate. L'una nascosta dall'altra. Le cose precipiteranno quando il popolo scoprirà che ha dei poteri ed Elsa scapperà lontano. Senza sapere che dietro di lei sta lasciando una scea di inverno perenne. Big Hero 6. Siamo in Giappone nel 2014. Hero è un ragazzino prodigio, un vero e proprio genio, ma usa la sua genialità per fare battaglie illegali di robot. Il fratello maggiore cercherà di farlo andare a scuola, all'università, a prepararsi, a fare un corso per riuscire a usare meglio la sua genialità. Ma anche il fratello è effettivamente un genio. E ha inventato Baymax, un robot medico che è in grado di curare da più o meno qualsiasi male. Ma un evento estremamente tragico diventerà il nuovo motivo di vita di Hero e lo leggerà per sempre a Baymax. Zootropolis. Immaginate un mondo in cui l'uomo non si è mai evoluto e le creature che si sono evolute e sono diventate intelligenti sono i mammiferi. Visto che si tratta sia di mammiferi carnivori che di mammiferi erbivori, i carnivori di base non sarebbero aggressivi, non dopo tanti anni di evoluzione, ma molti pensano che da qualche parte nel loro DNA ci sia ancora questa voglia di attaccare gli erbivori. Così iniziano a crearsi episodi di razzismo, di xenofobia, e l'equilibrio di quel mondo rischierà di essere completamente soggiogato dal desiderio di pochi. E noi seguiremo le vicende di Judy Hopps, una coniglietta poliziotta decisa a risolvere alcuni misteri che stanno sorgendo proprio in questo periodo. Oceania! Sorpresa delle sorprese, è ambientato in Oceania. Ci troviamo in un'epoca assolutamente non specificabile, un po' come Nera Leone. La grande idea Tefiti ha diffuso la vita per il mondo. È infatti il suo cuore pulsante a dare vita ad ogni cosa e a mantenere l'equilibrio all'interno di tutte le isole dell'Oceania. Maui, un semidio, ha sempre fatto di tutto per gli esseri umani. Ha trascinato il sole per fare in modo che ci fosse l'alternarsi del giorno e della notte. Ha rialzato le isole dal mare facendole uscire finalmente dall'oceano. Ha sconfitto mostri. Ha portato il fuoco. E stavolta ha deciso di donare agli umani il dono della vita. Così Maui ruba il cuore di Tefiti e cerca di portarlo agli umani. Ma qui, il terribile mostro Te Ka riesce a fare in modo che il cuore vada perduto. E sarà all'oceano stesso, mille anni dopo, a portarlo a Vaiana, la principessa di Motunui, che è stata scelta dall'oceano stesso per riportare il cuore al suo posto. Ma non può essere lei a farlo. Deve riuscire a trovare il modo per costringere Maui. Allora, che mi dite su quest'ultimo periodo della Disney? Che cosa ne pensate? Quali sono le vostre opinioni? Io sinceramente adoro praticamente tutti questi film. Fra i miei preferiti ci sono senza dubbio Rapunzel, La principessa e il ranocchio, Ralph Spacca tutto, Oceania, Oceania è stato bellissimo.